Si disputerà nel Parco Nazionale del Pollino domenica 31 agosto la prima marathon degli Aragonesi. Si tratta di una gara di gran fondo in mountain bike inserita nel calendario del trofeo dei parchi naturali 2014 che raggruppa le regioni Puglia, Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Lazio. La gara interesserà il territorio dei comuni di Frascineto, Civita e Castrovillari. Una ulteriore implementazione delle attività che noi sul cosiddetto turismo sportivo stiamo portando avanti. Noi negli anni passati abbiamo consolidato alcune manifestazioni importanti, il canottaggio, la canoa, il tiro con l'arco, l'orienting nei pianori di Novacco, alcuni sport adrenalinici che si fanno nel nostro territorio, però quest'anno abbiamo voluto sperimentare nel doppio versante Lucano a San Costantino e qui in Calabria questa bellissima cornice di Castrovilla, Ricivite e Frascineto, questa maratona che peraltro è inserita all'interno di un calendario che un po' coinvolge diversi parchi italiani, quindi è una bella iniziativa, noi l'abbiamo sostenuta, il parco devo dire che in questo territorio per fortuna è rimasto a presidiare e a sostenere queste manifestazioni, mi auguro che il 31 possa essere una grande giornata di sport, ma soprattutto possa essere anche una grande opportunità per far conoscere ulteriormente questo territorio, sapendo che verranno attileti da ogni parte d'Italia, ciclo amatori che sicuramente io credo resteranno affascinati delle bellezze del nostro territorio.